allora buongiorno a tutti introduciamo al primo talk le tecnologie assistive in ambiente mobile quindi iniziamo col presentare il primo candidato che è stato con me anche una giornata di ieri lui è Michele Landolfo e lavora presso l'IMAT, l'Istituto Nazionale della Valutazione Ausili e Tecnologia come esperto di accessibilità consulente di ipovisione tecnologie assistive Ausili e inoltre è l'amministratore del sito universalaxias.it Michele se ci sei puoi cominciare ci sono, ci sono buongiorno buongiorno a tutti allora, di cosa parliamo oggi? oggi parliamo di tecnologie assistive e dispositivi mobili con questa sessione, questo intervento che ho il piacere di svolgere andiamo un pochino a scoprire quali sono le tecnologie che consentono a una persona non vedente e ipovedente di poter utilizzare lo screen reader di poter utilizzare uno smartphone con che cosa? con uno screen reader se siamo non vedenti o abbiamo un'ipovisione grave oppure altri tipi di tecnologie se siamo ipovedenti io ho un iPhone a schermo dovreste riuscire a vedere la schermata Google Maps aggiornata di recente di iPhone quindi gli iPhone sono perfettamente accessibili prima di iPhone c'erano i telefoni che tutti amavamo i Nokia o comunque i Siemens, i Motorola quindi cellulari classici, GSM e anche quelli in passato erano stati resi accessibili tramite uno screen reader uno dei più utilizzati al tempo era c'ho un attimo un lapsus dopo magari Sauron mi aiuta cavolo c'ho un lapsus l'ho avuto per tanti anni anche io ah, Talks ecco non mi veniva il nome Talks che veniva controllato tramite joystick o tramite combinazioni di tasti del tastierino numerico dei cellulari ora siamo passati allo smartphone Apple nel 2009 col suo iPhone 3GS inserì nel sistema operativo lo screen reader fu una delle prime la prima società al mondo a inserire comunque un così ampio supporto di accessibilità per le persone con determinate problematiche e quindi come funziona questo screen reader? questo screen reader è un'interfaccia tra noi e lo schermo di iPhone e il display multi-touch e si controlla lo faccio vedere anche alla webcam con dei gesti in questo momento a schermo si dovrebbe vedere impostazioni il focus questo cursore è un cursore proprio rettangolare che ho reso un pochino più grande per mostrarlo anche a schermo sull'app impostazioni e per poter attivare questa applicazione non basta toccare lo schermo non basta toccare l'applicazione impostazioni ma va fatto un gesto apposito infatti quando noi configuriamo le tecnologie assistive impostazioni su uno smartphone a una persona non vedente o ipovedente la seconda cosa che facciamo è insegnare dei gesti appositi quindi per imparare a usare l'iPhone oggi parliamo di iPhone ma vedremo più avanti adesso parliamo di iPhone ma possiamo vedere più avanti anche Android dobbiamo quindi imparare questi gesti i gesti principali che ce ne sono una ventina di gesti poi si possono anche personalizzare però i primi che insegniamo sono il flick quindi è un gesto orologio nove google maps aggiornata di recente analytics aggiornata di recente quindi è un gesto molto veloce a schermo quindi come se togliessimo una una briciola di pane dallo schermo da sinistra a destra noi note spotify aggiornata snap said navighiamo in maniera consecutiva dall'alto verso il basso in maniera sequenziale dall'alto verso il basso scusa Michi scusami vuoi magari non so se qualcuno ce l'ha come attivarlo certo così magari ti seguono come dicevamo assolutamente fare una prova il più possibile esperienziale dopo siamo a distanza quindi se abbiamo dei problemi è un po' difficile seguirli assolutamente la sveglia è suonata troppo presto avevamo appunto l'intenzione di farvi comunque provare come a distanza seguendo un pochino i nostri passaggi allora intanto partiamo da chi ha un iPhone o un iPad il sistema operativo è più o meno lo stesso anche se si chiama iPadOS l'ultimo di iPad comunque la base è iOS 13 è iOS 14 perché ha un ultimo modello allora come attivare VoiceOver lo screen reader di di iPhone o iPad esistono diversi modi se comunque non volete avere troppi problemi possiamo usare Siri quindi possiamo chiedere a Siri di attivare VoiceOver e disattivare VoiceOver quindi proprio glielo chiediamo anche se il mio Siri tende a non ascoltarmi disattiva VoiceOver ok ho disattivato il VoiceOver ok mi ha disattivato il VoiceOver quindi prima era attivo adesso come si vede a schermo io riesco a controllare l'iPhone come se vedessi cioè nel senso non c'è non c'è VoiceOver quindi per attivare VoiceOver si tiene premuto il pulsante Siri attiva VoiceOver ok ho attivato il VoiceOver il pulsante Siri nel mio caso il pulsante di accensione se avete un un iPhone con con il con il tasto home quindi il pulsante in basso dovete premere quello per avviare Siri quindi ripeto usiamo in questo momento Siri per quale motivo in questa fase iniziale consigliamo di attivare Siri in quanto di usare Siri per attivare VoiceOver consigliamo ciò perché nel momento in cui attivate VoiceOver tutti i gesti come detto cambiano quindi se siete abituati giustamente a toccare impostazioni eccetera quello non funzionerà più perché il tocco singolo serve per identificare l'icona da toccare quindi serve per avere il feedback di quello che noi stiamo facendo a scherbo e quindi per usare VoiceOver il consiglio comunque di affidarsi all'ascolto quindi non vi chiedo di di vendarvi o di chiudere gli occhi però quella è la filosofia cercate di vendarvi immaginate di di essere vendati e se proprio proprio volete avere un'esperienza più simile a quella di una persona che non vede chiudete gli occhi e affidatevi totalmente alla voce in questo modo riusciamo a fare una una sorta di one to one una lezione one to two all in realtà ecco con molte più persone allora per quale motivo con Sauro abbiamo pensato di farvi vedere e di farvi provare VoiceOver di persona ricordo l'istituto Cavazza di Bologna quando ci sono stati gli accessibility days e penso anche a Dancona abbiamo fatto qualcosa del genere due anni fa perché in particolare sviluppatori e designer possono verificare il comportamento dello screen reader in questo caso di VoiceOver su un dispositivo mobile su un'applicazione mobile su un sito mobile quindi è già una una prima prova teoricamente quando si realizza e sta cominciando a costruire un'app un sito parlando di dispositivi mobili di un app di un sito possiamo già vedere se stiamo facendo un buon lavoro o no oppure dobbiamo migliorare qualcosa se poi ci saranno delle sessioni dopo la mia in cui si parlerà si andrà molto in modo approfondito a parlare di programmazione di sviluppo di inclusività di design for all eccetera però in questo momento guardiamo la base cioè quello che deve fare uno sviluppatore fase alfa dell'app fase alfa del sito si lancia voiceover quindi usiamo Siri attiva voiceover e cominciamo a controllare ora se ne parlava ne parlavo ieri con un parentesi tonda ecco apriamo un attimo una parentesi si parlava un attimo ieri con un mio amico di un fatto è ovvio che una persona che non è abituata ad usare lo screen reader è contenta quando lo screen reader parla e quindi nel senso che se sentiamo vocalizzata l'informazione a schermo ok è accessibile in realtà nì nel senso che è un'ottima cosa se parla però bisogna poi essere sicuri che ci siano delle comunque che lo sviluppo comunque sia stato corretto siano state rispettate le famose linee guida sull'accessibilità e che comunque il comportamento di voiceover rispecchia l'utilizzo che ha un non vedente di voiceover dopo lo vedremo adesso è più facile vedersi in questo caso farsi che a dirsi perché andremo a vedere delle applicazioni che attualmente non sono accessibili o che hanno dei problemi di accessibilità alcuni gravi e alcuni non gravi così che questa sessione è molto importante per chi sviluppa perché in questo modo potete immediatamente accorgervi e correggere un elemento di un'applicazione che non parla diciamola in maniera più spicciola e soprattutto eventualmente capire come funziona lo scritto in modo da non incappare nell'errore ok parla ok accessibile no deve parlare in un determinato modo si deve comportare in un determinato modo gli elementi devono essere letti in modo sequenziale quindi questa è la cosa più importante quindi andiamo a vedere prima di tutto dopo che avete attivato voiceover vi ho dato il tempo per attivare voiceover andiamo a vedere ad esempio come si comporta l'applicazione impostazioni quindi per andare in impostazioni per chi mi sta seguendo in tempo reale potete anche in questo momento toccare l'icona impostazioni se l'avete a schermo se ce l'avete nella seconda pagina già c'è il terzo gesto che dobbiamo imparare che è il gesto per scorrere le pagine che è un gesto a tre dita schermo oscurato da destra verso sinistra come se trascinassimo la pagina la seconda pagina verso di noi e ovviamente questo gesto adesso lo sto facendo vedere virtualmente bisogna toccare prima un'icona e poi trascinare perché bisogna sempre basarsi sul focus che è una delle parole magiche dello screen reader voiceover ma non solo però su iphone su ipad e su mac c'è molto riferimento al focus di voiceover quindi dopo che siamo in impostazioni dovreste riuscire a vedere a schermo impostazioni navighiamo in maniera sequenziale gli elementi quindi innanzitutto stiamo vedendo come si comporta un'applicazione accessibile come si comporta un'applicazione accessibile perfettamente accessibile quindi il focus è in alto in questo momento ha vocalizzato impostazioni impostazioni intestazione ha anche letto un attributo cioè intestazioni significa che è un titolo e lo sviluppatore in questo caso apple ha inserito il titolo che poi se si sviluppa nativamente è un'informazione di default che viene messa che viene messa dalle varie viste la prima vista tutte le viste hanno un'intestazione e voi potete andare a modificare il testo la label che compone questa parola impostazioni intestazioni cerca campo di ricerca abbiamo un campo di ricerca il gesto per muoversi in maniera sequenziale come detto come detto non disturbare tempo di utilizzo generali centro di controllo schermo e luminosità schermata home accessibilità accessibilità perfetto ok le opzioni di accessibilità ci consentono di personalizzare il tuo iPhone in base alle preferenze specifiche qui in accessibilità ci sono tutte le impostazioni che servono a una persona ipovedente o non vedente per utilizzare lo schermo ora c'è voiceover c'è la possibilità di configurare voiceover c'è anche un tutorial di voiceover magari vi consiglio poi di andarvelo un pochino a studiare per andare a capire qualche altro gesto però la cosa che ci interessa oggi più che altro più che imparare voiceover c'è anche una guida un po' vecchiotta su universal access che vi insegna tutti i gesti andiamo a vedere più che altro come si comporta un'applicazione che non è stata sviluppata con tutti i criteri di accessibilità e oggi vi ho portato un'applicazione che sto seguendo che è l'applicazione il rifiutologo di ERA ERA è la società multiservizi di Bologna diciamo distribuisce gas elettricità e non solo e ha questa applicazione Facebook adesso andiamo alla pagina il rifiutologo questa applicazione servirebbe per capire un determinato rifiuto dove deve andare a essere compostato buttato gettato riciclato e inoltre teoricamente consentirebbe tramite il chip NFC di aprire dei cassonetti che sono stati posizionati in alcune aree di Bologna quindi teoricamente è anche uno scopo importante allora l'apriamo per aprire un elemento si fa doppio tocco sono i tre gesti i due gesti principali che dovete imparare sono il tocco toccare la scherda esplorare la schermata con il dito toccare gli elementi i singoli elementi e doppio tocco per aprirli e c'è il flick verso destra andiamo in basso verso sinistra andiamo in alto ora spero che mi state seguendo se ci sono delle domande dei problemi scrivete in chat eventualmente io e Saur interveniamo però usando Siri siete al 100% sicuri che non ci saranno problemi Martina nel caso interrompimi se ci sono delle domande Saur uguale allora vediamo come si comporta questa applicazione innanzitutto lo dico anche per ci sta seguendo anche qualche consigliere dell'Unione Italiana Cechi lo dico anche un po' anche a Sauro e Andrea Cioanna un po' come ci siamo mossi per questa applicazione molti iscritti all'Unione di Bologna ci hanno segnalato segnalato come diciamo Cavazza come Invat ma anche come in amicizia me lo diceva Andrea Prantone il presidente dell'Unione di Bologna guarda c'è questo problema con l'applicazione di rifiutologo e non solo con l'applicazione di rifiutologo anche l'applicazione di Iera per controllare i consumi pagare bollette vedere bollette non è accessibile però quella è un'applicazione abbastanza complessa poi non la vorrei vedere per non demolire in borsa era più che altro e allora abbiamo quindi ci hanno contattato mi hanno contattato per l'accessibilità di questa applicazione e cosa cosa ho fatto ho contattato schermo scurato tramite una nostra spia interna che lavora ad Aera una delle persone che si occupa di comunicazione della società multi servizi e loro hanno fissato un incontro con me Andrea Prantoni che è il presidente di Bologna e un altro paio di persone e siamo andati quindi a mostrare in azienda i problemi che hanno le persone non vedenti e i povedenti con l'applicazione in particolare i problemi erano con lo screen reader quindi con voice over e quali erano questi problemi allora diciamo che questa è già la seconda revisione dell'applicazione hanno fatto dei miglioramenti però come vedremo come vedremo non sono assolutamente bastati allora intanto il focus è posizionato nel primo elemento in alto a sinistra lo si vede a schermo ed è il menu hamburger il famoso schermo oscurato menu hamburger adesso riposiziono il focus menu pulsante menu pulsante doppio tocco quindi apriamo il menu menu logo era immagine cielo allora ha detto logo era immagine cielo e poi avete sentito un suono questi suoni che potreste sentire se avete un iphone o un ipad con iOS 14 sono dovuti a un intervento che ha fatto Apple nell'ultimo aggiornamento schermo oscurato ha aggiunto un'intelligenza artificiale che prova a riconoscere gli elementi che non sono stati creati in modo accessibile o prova a descrivere le immagini il risultato è ancora un po' acerbo ma siamo sicuri che il prossimo anno col prossimo aggiornamento i prossimi aggiornamenti saranno abbastanza rivoluzionari perché però non lo vorrei dire perché potrebbe essere un aiuto da parte di Apple agli sviluppatori un po' cattivelli quindi non ve lo dico però potrebbe essere un aiuto per descrivere anche gli elementi che non sono stati creati in modo accessibile ve l'ho detto ormai allora quindi siamo in questo menu si è aperto un menu laterale un menu laterale a sinistra e possiamo navigare gli elementi allora vediamo come si comporta voiceover impostazioni adesso lui mi ha trovato non so per quale motivo questa localizzazione questa località è basata sulla mia localizzazione io sono a Bologna un po' distante vabbè via garibaldi 4 ritiro ingombranti ritiro ingombranti stazioni ecologiche stazioni ecologiche notifiche notifiche materiali illustrativi materiali illustrativi le nostre app le nostre app e già qua succede qualcosa voiceover non parla il focus è posizionato correttamente cioè a schermo si vede il rettangolo che identifica l'elemento ma per qualche strano motivo non sta parlando voiceover bene benissimo vado avanti sarà un problema sarà un elemento decorativo non etichettato per saperne di più cielo finestra cielo finestra questa è la descrizione automatica che trova iPhone tramite l'intelligenza artificiale o il neural engine di iPhone per saperne di più per saperne di più e anche qua un'altra voce un altro flick un'altra voce in cui non ci sono informazioni un'altra voce senza informazioni lo sentite anche dal suono quindi anche Sauro che mi sta ascoltando e anche Andrea che mi stanno ascoltando dall'altra parte di Zoom loro sentono questi suoni ma giustamente non sentono la vocalizzazione quindi quello che è scritto e quindi quello che è vocalizzato della sintesi vocale e si rendono immediatamente conto che qualcosa non quadra le nostre iniziative poi continuo a parlare di nuovo le iniziative un altro elemento tutorial non vocalizzato guida rifiutologo guida scansione codice bar e altre crediti ok e ci sono altre informazioni ora abbiamo aperto un menu dovremmo riuscire a richiuderlo però questo menu e come si fa teoricamente le barre laterali si dovrebbero chiudere spostando il focus fuori dalla barra laterale di solito di solito la barra laterale non copre l'intera area visibile dello schermo quindi posizionando il dito sulla destra si dovrebbe riuscire però anche a schermo vi faccio vedere tramite la webcam che il focus non si posiziona fuori dalla barra laterale e quindi non ci consente di chiudere il menu e già è una cosa che non va bene allora diciamo l'esperienza mi porta a dire vabbè ci sarà in alto tornando in alto la possibilità di chiudere il menu ma in alto è logo in a destra effettivamente c'è il pulsante il pulsante hamburger e quindi per chiudere il menu io dovrò toccare quello in teoria ma siamo chiusi con voice over in questa barra laterale cioè non ne usciamo e come facciamo dovremmo addirittura chiudere e riaprire l'app purtroppo però in questo momento vi faccio vedere invece come dire questo è un grosso problema gliel'avevo già segnalato gli avevo mandato un report a ERA loro l'avevano girato al loro team di sviluppo che l'avevano girato alle società esterne che comunque hanno degli appalti anche loro e quindi chissà chi è arrivata la mia segnalazione che 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 io ho mandato molto dettagliata spiegando il perfile per segno il comportamento sbagliato che a voice over in questo caso in questa barra laterale e soprattutto anche come risolverlo schermo oscurato non tanto da un punto di vista di sviluppo perché chissà che sistemi di sviluppo utilizzano però più che altro qualche scamottage più che altro livello di design quello che come si dovrebbe comportare voice over quando si apre una barra laterale allora facciamo finta che ci interessa ritiro ingombranti stazioni ecologiche notifiche materiali illustrativi notifiche stazioni ecologiche che ci interessa il ritiro ingombranti prenota il ritiro a domicilio ok allora qui il comportamento servizio ritiro domiciliare intestazione è abbastanza corretto nel senso che siamo nell'intestazione in questo momento prenota il ritiro a domicilio prenota il ritiro il ritiro a domicilio da telefono fisso o cellulare chiamata gratuita 8 0 0 9 9 9 5 0 0 questo è il numero verde per informazioni per informazioni gruppo era it gruppo era it i tuoi oggetti ingombranti sono ancora in buono cambia il finale cambia il finale i tuoi oggetti ingombranti per informazioni 8 da telefono prenota il ritiro servizio ritiro il rifiutologo pulsante indietro è giunta abbastanza bene ora io chiuso la schermata andando sul pulsante in alto a sinistra che era etichettato questi pulsanti li hanno etichettati abbastanza bene all'inizio non erano etichettati quindi anche il pulsante di chiusura veniva vocalizzato con un schermo scurato quindi con un riferimento numerico che significava che lo sviluppatore non aveva inserito nessuna label di nessun tipo nessuna etichetta e quindi vanno sempre etichettati i pulsanti è la cosa più semplice che si può fare che può aiutare una persona non vedente per poter navigare un'applicazione vi volevo far vedere quest'altra cosa cerca un rifiuto che è la cosa una delle funzioni principi segnala un problema cerca un rifiuto dell'applicazione allora menu in alto a sinistra ok quindi siamo entrati con il doppio tocco in ricerca rifiuti siamo posizionati in alto a sinistra sul menu hamburger cerca rifiuto intestazione cerca rifiuto intestazione perfetto cerca un rifiuto cerca elissi campo di testo abbiamo la possibilità di effettuare una ricerca perfetto adesso in questo momento salto questa possibilità voglio invece navigare clicca per scansionare un codice a barre pulsante clicca per scansionare il codice a barre quindi anche questa parte l'hanno resa accessibile perché non lo era allora andiamo a cercare qualcosa per esempio gli acidi io ho degli acidi a casa voglio sapere come smaltire questo prodotto allora teoricamente quando aprite la schermata relativa a un prodotto da smaltire si dovrebbe vedere qual è il contenitore giusto quindi questa è la funzione principale dell'app per cui è nata l'app è questa quindi sfida prodotto intestazione acidi ciugere bene il contenitore prima di conferire il rifiuto ciugere bene il contenitore prima di conferire il rifiuto assolutamente sono acidi certo non li fornirò con una scatola di carta quindi va bene perfettamente ecco e adesso ho fatto un altro flick quindi ciugere bene il contenitore prima di conferire il rifiuto ciugere bene il contenitore prima di conferire flick qui c'è l'informazione principale cioè dove li devo buttare questi acidi questo over non parla E anche se faccio un altro click verso destra, sentite questo altro suono che è un suono di orientamento che vi dà voice over e vi comunica che non ci sono più elementi da toccare. Ma voi direte, ma come? È pieno di elementi. Sì, la scherma è piena di elementi, ma voice over per voice over non ci sono e quindi questa applicazione risulta con grosse, ha grossi problemi di accessibilità e quindi devo rifare una segnalazione a ERA. C'è un rapporto più o meno aperto con loro e sono molto lenti, ma non perché ERA è lenta, nel senso che era una società guardata in borsa, ma anche una società multiservizi che una parte pubblica, una parte più privata, è quello che ho capito. Quando si fanno gli incontri con loro partecipano dieci persone, sembra un consiglio di amministrazione. Però sono molto, forse per loro sarebbe già accessibile, il problema è che per come funziona, hanno organizzato il loro sistema di sviluppo interno, ci sono tanti passaggi e quindi il rischio che questo mio report si perda tra i vari sviluppatori, tra la società esterna che mette le mani sull'app. Io penso, magari c'è anche Luca Ciaffoni o comunque gli altri due sviluppatori che sono presenti e stanno seguendo il mio intervento, magari saranno poi loro a spiegare anche come risolvere questo problema. Mi pare di ricordare che comunque sia una fonte HTML esterna, quindi c'è qualcosa nel kit di sviluppo utilizzato dallo sviluppatore che non consente a questa schermata particolare di essere intercettata da voiceover. Quindi mi toccherà scrivere un altro report. Qualcosina non corretto, ma non le cose più importanti. Ora, vi voglio far vedere invece un'altra organizzazione di un colosso, che è Ryanair, una società famosissima di tutto il mondo. Ryanair, società quotata in borsa, ha qualche miliardo di fatturato e ci tengo a dire qualche miliardo di fatturato, in quanto c'è una nuova legge italiana che obbligherebbe, togliamo il condizionale, obbliga le società che hanno un fatturato superiore, mi sembra di ricordare di 500 milioni di euro, a realizzare contenuti e app accessibili. Quindi l'obbligo non riguarda più solo gli enti pubblici, sarà poi Roberto Scanlon di Pomeriggio che ce ne parlerà in maniera più approfondita, ma riguarda anche le società private. Quindi Ryanair non ha scuse in Italia, ma non ha scuse anche negli Stati Uniti, non lo so se i suoi aerei volano anche negli Stati Uniti, penso di sì, e non ha scuse nemmeno in Irlanda, in Inghilterra, in Germania. Però per quanto riguarda l'Italia, non ci siamo. Perché non ci siamo? Andiamo a vedere come funziona quest'app. Iscriviti e accedi per usufruire di vantaggio, con un trattino basso button, trattino basso CTA, pulsante. Ecco, ha detto 300 mila cose, ma non la cosa più importante, cioè CTA è una call to action, è un button, è un pulsante, molto interessante, interessa Sauro perché programma, interessa Stefano Scala perché è uno sviluppatore, oltre che essere un musicista, eccetera, può interessare a me perché ok, mi piace, c'è il CTA, c'è un pulsante, però all'utente comune che gli frega che sia un button, che sia un pulsante, non gli frega assolutamente nulla, è un problema di label, di etichettatura, si sono dimenticati di fornire le informazioni allo screen reader, hanno lasciato proprio le informazioni per lo sviluppatore, cioè sono più o meno degli di questi che aiutano lo sviluppatore a riconoscere gli elementi. Schermo oscurato, buongiorno. Buongiorno, beh, buongiorno, grazie a te, Ryan. Iscriviti e accedi per usufruire di vantaggio, prenotazioni più rapide. Prenotazioni più rapide. Checking più, salta, continua come ospite, salva le tue ricerche. Continua come ospite, pulsante, accedi, pulsante. Allora, abbiamo aperto l'app, cioè adesso siamo nella schermata di Ryanair. Anche per chi vede, anche per i designer che ci stanno guardando, secondo voi, come vi sembra anche a primo impatto l'app? A me sembra un po' come Ryanair, come sono gli aerei di Ryanair, tutti un po' confusionali, tutti un po', siamo tutti un po' attaccati nei posti quando saliamo su un aereo Ryanair. E così mi sembra questa schermata, così a prima vista, non mi sembra molto pulita. Però direte, beh, non è comunque così importante, no? L'usabilità dell'app e l'accessibilità. Diciamo che le due cose, se avete letto qualcosa sul design inclusivo, vanno un pochino di pari passo. Un'app può essere accessibile ma non usabile e viceversa. Diciamo che se abbiamo, se facciamo un compromesso tra le due cose, otteniamo un risultato eccellente o più o meno, più che soddisfacente, ecco. Devo navigare un attimo la schermata di questa applicazione. Allora, perché mi sono perso anche io? Torniamo indietro. Accedi, pulsante. Posizioniamo il focus in alto a destra, quindi su accedi. Quindi col dito andiamo a buttarlo in alto a destra. E ora navighiamo col flick, quindi col gesto a scorrimento. Vediamo cosa succede. Area di tocco diretto. Area di tocco diretto. Anche qui non si capisce dove ci troviamo. Penso che anche Sauro dall'altra parte dice, ma dove siamo? Non siamo su un aereo, siamo sull'app dei Ryanair, ma non si capisce cosa sta vocalizzando. Andiamo avanti. Ultimi aggiornamenti sui rimborsi voucher del viaggio. Ok, ultimi aggiornamenti sui rimborsi. Questo l'hanno reso. Ulteriori informazioni. Accessibile. Accessibile. Diciamo che l'etichetta si vocalizza. Trasferimento dei voli da Venezia a Treviso a Venezia a Marco Polo. Ulteriori informazioni. Prenota un volo. Prenota un volo. Ci interessa volare in questo periodo di pandemia? Sì, dai. Andiamo, partiamo. Allora. Ritorno. Pusante. Solo andata. Solo andata. Pusante. Solo andata. Non ci interessa in questo momento. Ritorno. Pusante. Plan-tript-tript-basso-btn-basso-ailport-description-basso-label. Ok, questo è un altro elemento etichettato malissimo. Sarebbe il campo su... Dovrebbe essere il campo di inserimento dell'aeroporto di partenza. Come avete sentito, ve lo faccio risentire. Ritorno. Plan-tript-basso-btn-basso-ailport-description-basso-label. Perfetto. È un'altra labele inserita a uso e consumo degli sviluppatori per identificare questo campo di testo. A noi non ci proprio... non ci può aiutare. Plan-tript-basso-bastno-basso-labelo. Va bene, proviamo a inserire... Ritupo. Ricerca recente. Bologna, Italia, BLQ. Bologna, BLQ. Perfetto. Doppio tocco. Inseriamo... Pusante indietro. La nostra bella città di Bologna. ah ok adesso riesco a vedere anche io perfetto trova voi intestazione pulsante sull'andata allora ritorno pulsante plant trattino basso tripp trattino basso btn trattino basso il port trattino basso descrizione trattino basso label description label formazioni fondamentali ci tengo a precisare per chi si è collegato in questo istante che non siamo matti noi chiusiamo screen reader e ci ascoltiamo queste cose è lo sviluppatore che si è dimenticato di inserire la label in questo caso doveva inserire niente perché lo screen reader doveva inserire doveva vocalizzare campo di testo e basta sopra potevi inserire una label con aeroporto di partenza oppure il campo di testo poteva vocalizzare aeroporto di partenza e poi doveva dire campo di testo perché questo comunica chi usa lo screen reader quindi a messa aura rosi a rosi non c'è oggi andrea e tutti colori che usano i screen reader che posso scrivere in realtà non non si è aperto poi santi indietro lo scrivere c'è la tastiera ma si è aperto un filtro per selezionare la città però potete scrivere l'antino basso blq perfetto siamo riusciti a inserire l'aeroporto di partenza ok questo io vado un po a indovinare intuito dovrebbe essere l'aeroporto di arrivo però non si capiva che era l'aeroporto di arrivo cioè lo so perché ve lo sto facendo vedere e dopo arriverò una conclusione su questa applicazione però prima di arrivare alla conclusione seleziona la destinazione ricerca recente alicante 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 spagna pulsante indietro che mi piace allora abbiamo messo un po la buona l'aeroporto di partenza blq pulsante su app bellissimo l'antino basso triturino basso triturino basso l'antino basso triturino basso l'antino basso l'antino basso l'antino basso gps trattino basso ai con immagini gps icon proprio qua hanno fatto si sono 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 abbondati con la descrizione di questa image di questa immagine bastava anche non vocalizzata bastava non mette nessun tipo di descrizione diciamo c'è la possibilità di dire che questo non serve a niente la navigazione di chi non vede ma no loro hanno voluto inserire anche qui un riferimento per lo sviluppatore un adulto maggiore di 16 anni allora torniamo però l'antino basso 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 parlare anche qui label sbagliata bastava scrivere lo sviluppatore dovrebbe scrivere calendario e come avete penso capito fino adesso l'antino basso 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 l'antino già io da una persona non vedendo non riuscirebbe chiusa scrive reader e voiceover già si rende conto che l'app si rende conto che l'applicazione non è utilizzabile da chi non vede l'antino basso io adesso un po la buona ho identificato ok ma non vogliamo dire mercoledì mercoledì qua c'è un calendario dire che non ci sono voli sabato sabato domenica marzo 2021 marzo 2021 e comunque non si capisce non so se più che altro per chi vede sauro come me non ci sta capendo nulla ma è normale nel senso che l'applicazione è fatta da cani 2 è veramente è veramente un disastro sono perso anche io non pensavo io non avevo l'applicazione di ryanair mi mancava fra quelle senti questa informazione sauro adesso lui sta leggendo allora marzo 2021 bologna alicante marzo 2021 quindi in teoria c'è il calendario sotto quindi ok perfetto 1 2 2 3 penso che si riferisca 1 2 3 marzo il problema è che noi lo sentiamo voi lo sentite chi vede però vede che il calendario è oscurato infatti c'è significa probabilmente che non c'è un aero disponibile il problema è che non lo dice questo lì la domanda che mi sorre spontanea è cosa sono quelli per lo screen reader non sono nulla testo testo non abilitato cioè è un semplice testo che cos'è non sono pulsanti cioè non sono nulla bella domanda ecco ok il problema di prima ma sì il problema comunque tutto il discorso che è stato fatto anche in altre circostanze no e lo screen reader ha bisogno di sapere di che controllo parliamo se lui non sa di che controllo parliamo non sa nemmeno come interagirci quelli non sono niente forse sono testo semplice ma non ma nemmeno perché poi sono in realtà credo cioè è un elemento oscurato schermo strato doveva dire oscurato non abilitato esatto dare delle informazioni anche sullo stato del controllo infatti qua non dice non dice nulla 25 dice 25 giorni a caso sì è oscurato nel schermo non parliamo della sequenzialità che non è inesistente non ci siamo secondo me anche ripetere magari il mese di cui si sta parlando perché c'è capito relativamente però il problema è che quasi informazioni sono totalmente cioè non hanno una logica sequenziale ok guarda anche tappando non succede ovviamente esatto quello non te lo dà cioè non è non è abilitato non ok che in realtà come vede anche martina cioè è oscurato capito quindi io non posso come quando non c'è diciamo che voglio tutto pieno non so come dire però ovviamente chi usa screen reader non può sapere cioè non c'è un'informazione forse dal momento della prenotazione mi dirà che non è possibile ecco marzo 2021 ok vogliamo cambiare mese marzo 2021 non so come si faccia 28 gennaio domenica sabato gennaio 2021 gennaio 2021 non c'è proprio modo di poter navigare questa schermata con lo screen reader quindi la bocciamo pusante pusante in tutto e per tutto purtroppo non possiamo usare il sito della ryaner per volare e questo implica una importante discriminazione da parte di ryaner nei confronti delle persone che hanno problemi di vista in quanto che io sappia non esiste modo di usare anche il sito della ryaner nel senso che anche il sito della ryaner ha dei grossi problemi di accessibilità schermo oscurato e uscendo dalla ryaner il sito di alitalia di luftanza di tutti gli altri operatori hanno grossi problemi e allo stato attuale sembra appunto che non ci sia un sito per volare che sia accessibile non ci sia un'app per volare che sia accessibile quindi parliamo di siti delle case delle società che si occupano di viaggi aerei esistono poi degli aggregatori per fare una una parentesi simpatica vi dico nel 2005 2006 si riuscivano a prenotare i voli in autonomia sul sito della ryaner con qualche difficoltà si riusciva e hanno probabilmente rifatto partialmente o forse totalmente il sito adesso non ho provato quest'anno ho provato l'anno scorso ma se tu mi dici così i problemi di accessibilità sono aumentati in modo esponenziale però la cosa fantastica è che nel riprogettare il sito si sono proprio dimenticati totalmente di questo aspetto cioè prima funzionava adesso no il sito è molto problematico forse una persona come te sauro che è molto brava comunque ha molto ha molta sopportazione in particolare a un livello di sopportazione sopra la media e sei molto paziente forse riesci in un modo in un altro in un modo che l'altro telefono che parla ok in un modo in un altro riesce a navigare il sito però è davvero difficoltoso la maggior parte delle persone io so che si fa aiutare per acquistare i biglietti con la ryaner perché più che altro quando la navigazione una persona non vedete si accorge che il sito e farà ginoso anche paura di fare un acquisto giustamente ci metti i dati della carta ok speri che sia bologna in realtà e bangkok e chissà dove vai ecco quindi non è che puoi parlare con l'assistenza della ryaner e ti fanno un rimborso sì sì non si sappiamo che il sito problematico ti facciamo rimborso è un po più complicata la faccenda e quindi giustamente uno preferisce farsi aiutare non è così per trenitalia che c'è un lavoro di c'è un rapporto che ha ad esempio l'unione trenacechi invat l'istituto in cui in cui lavoro e l'azienda e quindi si prova a intervenire il più possibile quando fanno degli aggiornamenti quando ci avvisano che stanno per aggiornare in particolare noi abbiamo fatto diverse diversa forma diversa formazione a roma luca ciaffoni che parlerà dopo di me è andato a roma e ha fatto vedere a trenitalia più che altro qual è un pochino il modo più accessibile per pensare lo sviluppo perché ovviamente sai non sai che che framework utilizza che programmi utilizzano che software utilizzano che sistema di sviluppo utilizzano e quindi come dire noi ce la mettiamo tutta ci proviamo sauro fa la stessa cosa ad ancona noi la facciamo a bologna ma non è semplice questi momenti questi workshop sono fondamentali per spiegare agli sviluppatori che non hanno gli strumenti non agli strumenti perché magari su google su youtube trovi qualcosa però aver la possibilità di parlare con chi lo utilizza lo screen reader è la cosa migliore la cosa più importante perché vi consente di risparmiare ore e di lavoro che la cosa più importante in termini economici voglio far vedere solo un'altra applicazione quindi raiata gli dovremmo fare con scano se ci sta ascoltando magari qualcuno glielo può chiedere facciamo causa a ryaner così ci prendiamo anche un po di soldini e sarebbe da fare visto che con la nuova legge sul che obbliga le società con un fatturato superiore a 500 milioni possiamo anche avere un vantaggio in più quindi andiamo molto più lisci quando siamo dal giudice in realtà ne parlerò anche oggi pomeriggio alle tre mi sembra mi ricordo alle due forse telegram società russa in teoria sviluppano attivamente a detta loro santa non ci credo e quindi l'applicazione dovrebbe essere pelo più accessibile sua io e su iphone ma come abbiamo detto ieri digitale non significa accessibile e quindi ci vuole uno sforzo da parte dello sviluppatore paradossalmente telegram una delle poche applicazioni che è più piccole da android che da iphone è assurda sta cosa però è così allora vi faccio vedere cosa succede quando io apro l'elemento comune di bologna ora già a schermo si vede che il focus è posizionato bene quindi teoricamente comune di bologna non ci dovrebbero essere problemi questa è una list view un elenco di chat ci sono c'è l'immagine a sinistra che viene correttamente non vocalizzata da da voice over nel senso che io non ho interesse a sapere qual è la descrizione poi magari uno sviluppatore può anche descrivere l'immagine però sia su whatsapp sia su facebook sia su schermo scurato l'app messaggio di apple non c'è la possibilità di sapere la descrizione dell'immagine l'icona ecco non è non è importante e apple non l'ha non l'evidenza e quindi secondo me è meglio copiare meglio copiare apple in questo caso quindi non vocali non inserire un'etichetta per questo particolare elemento quindi per l'iconcina sulla sinistra ci legge però schermo scurato come di bologna message foto azioni disponibili no ci legge neanche quelli perfetto ci sarebbe a destra la notifica del del budget del che ci elenca i messaggi non letti apriamo doppio tocco comune di bologna message foto comune di bologna autobus oggi attiva la nuova linea urbana 34 sul percorso piazza il focus ha ballato un pochino e chi vede ha visto la schermata muoversi e il il focus non è all'ultimo elemento dovrebbe giustamente apriamo un'app di messaggistica il focus e deve essere l'ultimo messaggio e invece no non so dove siamo nella barra laterale riusciamo a capire dove siamo io però con lo screen reader non riesco lo faccio vedere anche a schermo vedere a intercettare questa barra che di solito intercettabile condividi e quindi è un casino siamo a tre quarti cioè dovremo scorrere tutti i messaggi il problema che anche se io comincio a scorrere sul percorso piazza dell'unità casa della salute comune di bologna comunque il focus balla quindi questa applicazione è davvero inutilizzabile in questo momento perché ho voluto parlare di telegram ho voluto parlare di telegram in quanto c'è un costante contatto continuo non da parte di invato dell'unione ma da parte di utenti comuni di schermo scurato di persone non vedenti non vedenti che usano voice over e scrivono in continuazione questa società russa ma hanno sempre ricevuto delle risposte negative quindi questo è l'esempio da non seguire cioè non rispondere chi usa l'app chi vuole usare l'app e hanno fatto qualche passaggio per rendere un pochino più fruibile ma in realtà l'app per ios ipad os è problematica il sito un po si gestisce ma anche lì non è il top invece su android è un po un po un po un problema cioè su android scusate un po gestibile su ios ipad os non è gestibile e su web si gestisce un pochino quindi più o meno questo è l'esempio che gli esempi di inaccessibilità che 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 abbiamo apportato per mostrare qual è il comportamento che le app devono avere che non devono avere come si dovrebbero comportare come chi sviluppa o chi si occupa di design dovrebbe approcciarsi allo sviluppo accessibile e all'inclusione all'inclusive design no non so tu sauro l'app telegram la utilizzi un pochino allora la utilizzo la dovrei utilizzare per diversi in diversi contesti ma le difficoltà sono sono tante infatti riguardo a questo poi ti direi che siamo siamo quasi in chiusura ci sono delle domande intanto approfitto per fartene una io e poi lascio martina per le altre riguarda questo il ruolo del il ruolo dell'app store qual è cioè nel senso io mi riferisco sia come come utente quindi come utente che va a utilizzare un'applicazione non accessibile sia come sviluppatore cioè uno sviluppatore che va a pubblicare un app nell'app store cioè il ruolo delle segnalazioni della recensione dell'app io trovo un app totalmente inaccessibile può quanto può influire per l'esperienza tua la recensione le segnalazioni perché poi c'era tutto un discorso che diciamo il rispetto dei criteri di accessibilità per apple nelle app che venivano pubblicate aveva un ruolo abbastanza rilevante cioè come come la situazione spero di essere stato chiaro nella domanda allora domanda molto interessante la cosa simpatica è che spesso le comunità dei non vedenti sono molto organizzate sono ben organizzate sono molte sono tante e quando si muovono in branco sono capaci di affossare le stelline di un'applicazione quindi ogni tanto capita soprattutto è capitato con gli aggiornamenti di telegram che venivano affossate letteralmente perché è vero che si basano sul numero considerevole di utenti ma se 100 utenti si muovono e danno una stella e scrivono che l'applicazione non è accessibile vi assicuro che l'algoritmo dell'app store comunque vi penalizza e vi penalizza non poco perché ovviamente ci sono milioni di applicazioni e applicazioni su app store e avere comunque poche stelle da parte dello sviluppatore è un brutto segnale vedere molti disinstallazioni è un segnale ancora peggiore quindi la vostra app che fa che diventa gloriosa quando arriva non so alla top 10 di una categoria come cresce così velocemente può decrescere alla stessa velocità e quindi significa comunque anche una perdita di fatturato e di guadagno sulle applicazioni piccole questo si vede moltissimo ma influisce anche sulle applicazioni quelle più importanti per applicazioni diciamo meno famose meno utilizzate magari è anche più facile però per chi perché come noi per chi lavora non so all'unione perché anche un semplice appassionato o chi gestisce un sito con universal access come me anche facile interagire col piccolo sviluppatore per poter intervenire la difficoltà sta nelle grandi società in ad esempio ryanair trenitalia in cui anche il form contatto allo sviluppatore che è presente sul sito sull'app anzi sull'app store volevo dire quando tu contatti contatta lo sviluppatore spesso ti rimanda ai contatti di trenitalia quindi cioè non riusciamo ecco non riusciamo però come ha detto bene sauro come diceva appunto la domanda di sauro noi possiamo influire sul noi come comunità di non vedenti può vedenti influire moltissimo sulle stelline quindi in che altro consigliato allo sviluppatore consiglierei che cosa uno di inserire un giusto modo di contattarlo nel senso che dove c'è contatto allo sviluppatore mettete la mail non mi rimandate un form mi pare che si possa appunto fare se non ricordo male e inoltre sarebbe interessante anche rispondere alle ai commenti sulla sulle recensioni quindi commenti che fanno gli utilizzatori quando trovate la parola accessibilità significa che le vostre app hanno un problema e quindi state molto attenti che vi facciamo affossare perché siamo molto organizzati quando si muovono migliaia di utenti e le comunità sono di migliaia di utenti la il gruppo di universal access ne conta 1400 e sono tutti non vedenti può vedenti abbastanza arrabbiati soprattutto quando gli capita un'applicazione come telegram or a ryan e possiamo affossarvi l'app ecco questa è una minaccia non so sauro se sono stato abbastanza chiaro assolutamente ma aggiungo solo una piccola cosa ma quindi il discorso di il ruolo di apple in questo caso non cioè non rientra tra i criteri per cui un'applicazione in qualche modo viene ostacolata nella pubblicazione o comunque perché c'era se ne parlava inizialmente poi io io vabbè non seguo tantissimo diciamo l'evoluzione diciamo step by step delle delle dei cambiamenti che fanno in ios però il ruolo di apple dice in questo caso non può che apple non può ostacolare in qualche caso la pubblicazione in app store no giusto allora attualmente no nel senso che tra i criteri che che una un'applicazione deve avere per deve supportare anzi per poter essere pubblicato su app store non c'è l'accessibilità ma apple ti fornisce una documentazione impressionante su come realizzare quello senza un modo di dubbio è scrivi lo sviluppa nativamente su x code c'è un menu intero legato all'accessibilità quindi non ci sono scuse è ovvio che il problema sauro è tutti i vari framework di sviluppo di vari modi che che una persona per sviluppare dal java javascript eccetera però è interessante perché ogni tanto ma penso c'è anche una vetrina app store c'è una sorta di editoria no dietro c'è una redazione che racconta le app e c'è anche una sezione legata alle app accessibili sono le più blasonate sono sono più che altro le app usate nei non vedenti però penso che ci si arriverà come ci si sta arrivando sul sullo sviluppo di siti mobili nel senso sullo sviluppo di siti mobile desktop anzi ovvero come ci si sta arrivando che google tramite alcuni criteri tenterà e penalizzerà nel 2021 i siti che non sviluppano tenendo conto ad esempio del cls che è un valore che inserirà nell'algoritmo del motore di ricerca per valutare il sito praticamente cosa ve lo dico in due parole spesso nei siti quando c'è un javascript poco ottimizzato c'è molta pubblicità la pagina balla si carica e balla vedete il contenuto che si muove ecco questa cosa non piace più a google e non piace sinceramente neanche a me e penalizzerà il il sito basta per vedere un po come si comporta il vostro sito per vedere se nel 2021 passerà questo questi nuovi criteri questi nuovi algoritmi cattivi molto cattivi di google basta andare sulla pagina di google speed quindi mettere il proprio sito e lanciare il caricamento e lanciare diciamo la valutazione lì avete diversi diverse valutazioni nel vostro sito tra cui c'è la cls è molto cattivo come indicatore perché al primo movimento della pagina se i contenuti non sono caricati come si deve cioè ad esempio il javascript dovrebbe essere caricato in modo asincrono quindi dovrebbe essere caricato alla fine tac li penalizza e nel 2021 significa che il vostro sito non sarà più nei principali risultati di ricerca ma scenderà e questo costringerà lo sviluppatore a costruire il sito rispettando questi criteri ma vuol dire anche costruire un sito un pochino più accessibile che il cls influisce moltissimo sull'accessibilità di un sito stessa cosa sono sicuro farà apple oggi anche dopo dieci anni e passa dall'app store 12 11 anni dall'app store 12 anni anzi ancora apple non se la sente di inserire questo criterio anche perché farebbe fuori moltissime applicazioni escludiamo i giochi più che altro applicazioni molto complesse come possono essere anche quelle per accordare la chitarra non lo so che in teoria non sono così complicate ma sono molto grafiche e è vero che la grafica non influisce sullo sviluppo però come dire è un lavoro imponente che dovrebbe fare lo sviluppatore quindi c'è anche un nella legge comunque stanca se non sono cerco di essere preciso si usa il termine acqua accomodamento favorevole se non ricordo male cioè nel senso che non tutto può essere reso accessibile e ci sono delle scappatoie ecco l'importante che le scappatoie non siano predominanti ok bene bene bellissimo questa questa ultima informazione anche se era leggermente fuori tema ma molto molto interessante ok io direi se martina ha un credo qualche domanda poi mi scuso tanto in anticipo con luca siamo andati leggermente leggermente fuori e probabilmente ve lo dico fin da ora faremo pausa alle 11 e 15 circa quindi sarà leggermente più breve la la pausa un pochino più breve e riprendere no no ma tanto all'inizio c'è sempre il 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 quarto d'ora accademico ok grazie mille mici e passo la parola a martina allora qui chiedono se l'app di trenitalia è accessibile allora allora la risposta è che è utilizzabile in quasi tutte le sue funzionalità in particolare l'acquisto del biglietto si fa senza 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 problemi e c'è un lavoro in atto costante continuo con trenitalia con la società con che si occupa del sito e non solo del sito trenitalia ma anche che si occupa di altre realtà nel senso che trenitalia controlla altre società di trasporto pubblico ma non è semplice lavorare con loro nel senso che i tempi sono sempre molto lunghi e quindi da una segnalazione di inaccessibilità alla correzione passa molto tempo diciamo che sono stati fatti dei grossi miglioramenti rispetto a un paio di anni fa in cui c'erano dei problemi grossi e vi invito eventualmente a segnalare qualche problema di accessibilità o direttamente a trenitalia o direttamente a invat cioè info chiocciola invat.info in quanto c'è un gruppo di lavoro di non vedenti e ipovedenti che testa in continuazione le beta che trenitalia ci fornisce ripeto tra una b di solito beta 1 inviamo le segnalazioni beta 2 non le hanno corrette le correggono di solito verso la beta 3 o 4 cioè tra il beta testing e il riconoscimento degli errori e la correzione passano delle settimane se non mesi purtroppo le grandi società sono così non c'è modo di cambiare questa cosa in particolare ok poi ne abbiamo un'altra un po' più lunga allora quando si torna indietro su una pagina com'è il flusso di scelta della città di partenza destinazione lo screen reader deve necessariamente rileggere la pagina dall'inizio o è utile per gli utenti non vedenti i povedenti gravi ripartire dall'ultimo punto toccato? allora dipende se non ricordo male dipende molto dalla dall'impostazione dello screen reader però in questo momento c'ho un lapsus diciamo che teoricamente deve il focus si deve posizionare al primo elemento in alto a sinistra e di solito il pulsante indietro ci sono dei comandi specifici che consentono a chi usa screen reader di andare subito all'elemento più in alto in alto a sinistra quindi si può forzare dallo sviluppo il focus quindi portarlo non lo so al primo o al secondo elemento però non posizionerei mai il focus all'ultimo elemento ecco per intenderci quindi il focus deve essere in alto a sinistra nel punto più in alto così da consentire al non vedente che usano screen reader di poter navigare tutta l'interfaccia dall'inizio alla fine ok poi qui chiedono questa non so se però la faccio lo stesso ci provo ma a nord Europa come va? anche i siti della Norwegian e della SAS sono così poco inclusivi? allora il problema dell'accessibilità è mondiale Ryan era un sito che conosciamo tutti anche negli Stati Uniti che hanno delle leggi ad hoc hanno dei grossi problemi di accessibilità è ovvio che loro in America hanno una legge abbastanza fatta fatta bene nel senso è molto incisiva e spesso ci sono delle cause legali ne ricordo una a Playboy per dire perché le immagini al sito di Playboy perché le immagini non erano accessibili cioè non era poi così una cosa scherzosa perché il tipo mi sa che si è fatto anche qualche soldo perché ovviamente il giudice gli dà ragione c'è una legge importante da anni che obbliga le società a fare siti accessibili forse conta moltissimo dico al ragazzo la ragazza che ha fatto la domanda anche come i non vedenti pensano all'accessibilità cioè noi italiani siamo, io mi vedo molto combattente cioè anche Sauro, anche Stefano Scala che ha parlato ieri siamo molto arrabbiati e quindi combattiamo di più quando troviamo dei problemi di accessibilità però abbiamo un punto di svantaggio rispetto ad altre culture cioè gli sviluppatori italiani sono a mio parere un pochino più indietro sul discorso dell'accessibilità mentre negli Stati Uniti c'è una cultura maggiore anche in Germania io so per esperienza diciamo diretta e indiretta perché l'applicazione Samapri cui parlavo ieri è accessibile al 100% e hanno realizzato loro una mascherina tattile per il post perché si sono immediatamente resi conto e hanno ascoltato immediatamente le critiche delle persone che non vedono forse in nord Europa c'è più coscienza però forse gli manca la nostra rabbia e quindi il sito della Ryanair che comunque la società irlandese non è Irlanda comunque è nord Europa e si vede che non vedenti nel nord Europa non hanno questo bisogno di viaggiare non saprei ecco quindi diciamo che c'è sempre l'idea che il nord Europa sia migliore dell'Italia non lo so io vi dico che sicuramente gli sviluppatori italiani devono lavorare moltissimo bisogna inserire dei corsi nei corsi di laurea degli esami specifici sull'accessibilità se non lo passi non ti lauri e non sei uno sviluppatore sicuramente va fatto così e noi comunque italiani dobbiamo metterci lì in prima persona e segnalare il più possibile segnalare allo sviluppatore segnalare alla società potete segnalare a info chiocciola invat.info info lo ripeto info chiocciola invat.info e quando nessuno ci ascolta bisogna purtroppo prendere un avvocato perché non c'è altro modo per risolvere i problemi quando le porte sono chiuse bene grazie mille amici grazie a te veramente grazie mille amici 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 grazie mille amici